Si prepara a partire il waltzer dei centravanti in vista delle prossime settimane. Mirino su un bomber spagnolo che in Italia piace parecchio. Quella alle porte sarà una estate chiave per il futuro di Samuomoro Dion, bomber spagnolo che nell'ultima stagione ha giocato alla lavesma di proprietà dell'Atletico Madrid. E proprio i Colcoeros potrebbero andare a monetizzare al meglio la buona annata del possente classe 2004, che ha dato un saggio delle sue qualità. Centravanti di peso e distanza, Omoro Dion ha messo a referto 9 gol in liga lasciando intravedere ottimi margini di miglioramento, tanto da incrementare notevolmente valore di mercato e rumores sul suo conto. A tal proposito non è da escludere proprio un futuro in Italia per il 20enne iberico che piace alla Roma oltre che al Napoli, senza dimenticare che nelle scorse ore è stato accostato anche al Milan come alternativa a Zirkzee. Molto apprezzato dal DS Azzurro Manna, Omoro Dion ha una valutazione di 30 fratto 32 milioni di euro, e fermo restando come il desiderio di Conte sia Romelu Lukaku, per il belga servono gli incastri giusti e il giovane spagnolo può risultare un'alternativa interessante e di prospettiva futura. Intanto proprio nella gestione del calciatore è appena cambiato un tassello importante, e le carte in tavola potrebbero subire una scossa. Dal Napoli alla Roma, le ultime su Omoro Dion, lascia l'entourage, in un mare di rumores e voci sul suo futuro, Omoro Dion ha da poco ufficializzato un grande cambiamento, rompendo di fatto con il suo entourage. Lo stesso calciatore con una nota apparsa sui suoi social ha voluto spiegare, cari follower, voglio condividere con voi una decisione importante, dal 29 maggio ho interrotto il rapporto con il mio rappresentante a causa di notevoli divergenze. D'ora in poi la mia carriera sarà nelle mani di una persona di fiducia nella mia famiglia. Cambia dunque la gestione dell'attaccante classe 2004, che al netto di tutto dovrà presto decidere del proprio futuro tra il vento che soffia dalla Serie A, e l'interesse anche del West Ham. Intanto il calciatore si circonda di persone fidatissime pronte a gestire il suo destino.